100 notizie Brindisi, un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Benvenuti a questa edizione della telegiornale corta per via degli appuntamenti domenicali. Iniziamo subito con la cronaca. Una 58enne di Ceglie Messapica è stato denunciato dai carabinieri dopo aver aggredito la sua convivente. Nei guai anche la madre e il fratello dell'uomo. I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica, a conclusione di accertamenti partiti dalla segnalazione di un cittadino, hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 58enne del posto per aver aggredito fra le mure domestiche la propria compagna convivente, una coetanea del luogo che ha fatto ricorso alle cure presso il pronto soccorso dell'ospedale di Ceglie. Durante il controllo i militari hanno anche proceduto al sequestro delle armi detenute dall'uomo. I carabinieri hanno inoltre eseguito un controllo nell'abitazione della madre 88enne del fratello 42enne ed hanno rinvenuto armi e munizioni illegalmente detenute dagli stessi che erano di proprietà del marito della signora deceduto nel 2018. Questi ultimi sono quindi stati arrestati e al termine delle formalità di rito sono stati rimessi in libertà. Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro. Un protocollo di sicurezza per la serenità dei commercianti brindisini, l'iniziativa porta la firma di Confesercenti e di un istituto di vigilanza e sarà presentata domani, sentiamo qualche anticipazione. Parte l'operazione sicurezza di Confesercenti Brindisi lunedì nella sede dell'associazione sarà sottoscritta una convenzione fra Confesercenti e l'istituto la vigilanza SRL che prevede che lo stesso istituto metta a disposizione dalle 19 alle 3 nelle zone ad alta densità commerciale una o più pattuglie dedicate al controllo continuo delle diverse attività che aderiranno al progetto presidiando in maniera dinamica le stesse. Il vantaggio sarà quello di usufruire di un servizio di monitoraggio costante nelle ore più a rischio. La presenza di pattuglie che percorreranno le strade del centro infatti costituirà un forte elemento di disturbo e deterrenza. I vigilanti saranno dotati di strumenti ordinari di difesa e dei dispositivi immediati di comunicazione radio e telefonica. Il personale sarà costantemente in contatto con la centrale operativa che ogni istante sarà in grado di conoscere la posizione delle guardie grazie al sistema GPS di bordo di cui è dotata ogni pattuglia e potrà così dirigere e coordinare le attività ordinarie e di emergenza. La convenzione prevede che gli associati possano usufruire di uno sconto su tutti i servizi di vigilanza anche nei mesi successivi. La criminalità infatti rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo e in uno scenario di crisi come quello attuale le risorse eventualmente sottratte sotto forma di furti, rapine o spaccate risultano ancora più intollerabili. Per questo motivo Confesercenti Brindisi e l'Istituto La Vigilanza, nell'intento di fornire una risposta concreta al senso di insicurezza degli operatori, hanno messo a punto il progetto di sicurezza denominato Sicurezza in Corso. L'iniziativa sarà presentata domani mattina nella sede di Confesercenti Brindisi. Ora diamo invece uno sguardo al bollettino che è stato diramato oggi dalla Regione Puglia per capire qual è la situazione Covid-19. 129 nuovi casi di contagio su 19.468 test effettuati. Nessuno è deceduto a causa del Covid-19, secondo il bollettino del 28 novembre. I dati che riguardano la provincia di Brindisi in termini di nuovi contagi è pari a 17. Ancora attualmente in Puglia 4.023 sono le persone positive al Covid-19, di queste 137 sono ricoverate nelle strutture ospedaliere regionali ma in area non critica. Mentre 22 si trovano in terapia intensiva. E ora invece ci occupiamo di sport, di calcio, di Serie C con la Virtus Francavilla che ieri ha giocato l'anticipo di questa giornata di campionato. Un amaro pareggio esterno in quella di Campobasso. Il match è finito 2-2. Ce ne parla Alessandro Zanzico. Sentiamo. Termina 2-2 la sfida del nuovo Romagnoli con Virtus Francavilla e Campobasso che si dividono la posta in paglio dopo aver regalato gol e spettacolo. Mister Taurino cambia solo un interpret rispetto alle ultime tre uscite, gettando in mischia dal primo minuto Capitan Leo Perez. Sulla sinistra ancora Ingrosso a discapito di Enihan. I biancazzurri si fanno subito vivi. Al quarto minuto di gioco, prezioso dalla destra, mette in mezzo per Ingrosso che si allunga come meglio può ma senza trovare lo specchio della porta. Dopo sette minuti sono però i padroni di casa a portarsi in vantaggio. Tenkorang pesca Rossetti in aria. Il numero 9 dei lupi si svincola dalla marcatura di Ida con una torsione, calcia e dà un bacio al palo interno prima che la palla venga definitivamente spinta in rete da Angelo Persia che trova così la propria prima marcatura stagionale. Da qui a breve la gara verrà sospesa per circa 5 minuti a causa di un blackout. Si riprenderà a giocare dal 14esimo. Prova a reagire la Virtus. Al 21esimo Ingrosso mette in mezzo con il Mancino cercando Ceciua ma trovando solo una chiusura tanto provvidenziale quanto pericolosa di bontà. Il campo basso corteggia il raddoppio al 25esimo Tenkorang aggancia bene un passaggio di Fabriani ma poi calcia fuori di un soffio. I lupi si confermano pericolosi non soltanto in campo aperto ma anche su calcio piazzato. Sugli sviluppi di un corner Magri trova l'impatto con il pallone nonostante la marcatura di Micelli ma conclude sul fondo. Nel momento migliore dei padroni di casa arriva il pareggio degli imperiali con Magliorino che tira fuori dal cilindro un gol dei suoi. Tutto nasce da un lancio lungo di Miceli poi il fantasista Ionico riceve palla da Perez sulla tre quarti palleggia e con il Mancino trova un gol da Cineteca. Ottava rete stagionale per Magliorino capocannoniere indiscusso di questa Virtus. Prendono coraggio i biancazzurri questa volta è Magliorino ad innescare Perez sulla destra. Il centravanti mesagnese prova ad incrociare ma trova la parata di Raccichini. I biancazzurri completano la rimonta al trentaseiesimo dalla bandierina del calcio d'angolo Magliorino trova la zuccata vincente di Alessandro Caporale terzo gol in campionato per il difensore Salentino il secondo consecutivo in trasferta. Il primo squillo della ripresa arriva al cinquantanovesimo con i padroni di casa a caccia del pareggio. Nobile abbandona i pali per respingere con i pugni un cross di pace lasciando però la porta sguarnita. Persia prova allora a sventagliare da distanza proibitiva trovando la deviazione al lato di Magri. Il pareggio dei padroni di casa arriverà pochi istanti più tardi su una leggerenza difensiva del Villa. Caporale perde palle in uscita Rossetti mette in mezzo per Tencorang che di tacco sorprende un Tommaso nobile impreciso e non esente da colpe. Quarto gol per il centrocampista classe 2000 che dopo Andri e Monopoli punisce un'altra pugliese. Taurino prova a dare una scossa con i cambi cambiando appunto il tandem offensivo gettando in mischia Ventola e Tulissi ma al settantottesimo Tencorang sfiora addirittura la doppietta. Bravo in questo caso Idda a salvare sulla linea scongiurando ogni pericolo. Al secondo dei quattro minuti di recupero i biancazzurri si affidano alla classe e alla freschezza di Tulissi che calcia con il destro trovando una respinta maldestra ma efficace di raccichini. Dalla bandierina in grosso cerca Idda ma quest'ultimo viene placcato ai limiti della regolarità e quindi la retroguardia locale può tirare un sospiro di sollievo. Termina con un pareggio la prima storica contesa fra Campobasso e Virtus Francavilla che portano a casa un punto che forse non serve a nessuno dei due. I biancazzurri muovono però la classifica salendo a quota 24 punti. Domenica si torna in casa perché c'è il Monterosi. E tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.